Da giovedì 5 maggio la regione Lombardia ha dichiarato il cessato allarme incendi boschivi mentre si iniziano a tirare le somme dei danni inflitti al patrimonio forestale naturalistico dalle zone interessate. Infatti nei primi quattro mesi del 2022 il bilancio sul fronte degli incendi boschivi per tutta la provincia di Brescia è pesante. 4.293 volontari antincendio boschivo e 1.984 vigili del fuoco sono stati impegnati a fronteggiare una sorta di guerriglia dalla Val Vestino al Maniva dalla Maddalena alla Val Camonica con danni immensi al patrimonio boschivo naturalistico ambientale e zoologico delle zone interessate. In questo periodo di emergenza continua con continui allarmi la Valle Camonica è stata la zona più colpita con il primo incendio scoppiato già a Capodanno per concludere lo stato di emergenza in questi giorni quando la pioggia non abbondante ma sufficiente ha finalmente dato una mano all'ambiente e all'uomo. I boschi più colpiti sono stati quelli di Sellero, Berzodemo, Sonico, Vione e Vezadoglio dove vaste aree di territorio del Parco della Damedia e dello Stelvio, come nel caso della Val Grande di Vezadoglio, oltre alla zona di particolare tutela naturalistica sono state gravemente danneggiate. Pare però che ogni incendio nuovo, così come altri che nel frattempo si sono sovrapposti ad incendi preesistenti, siano di origine dolosa. Particolarmente evidente il caso di Vezadoglio dove tre incendi sarebbero stati appiccati a breve distanza l'uno dall'altro ad intervallo di circa 15-20 minuti sulla linea dello stesso sentiero in alta quota a limitare tra bosco di conifari e pascoli alti. In ordine di tempo dall'inizio del 2022 il primo incendio si è sviluppato a Capodanno sui monti di Vico di Edolo, quindi a febbraio a Berzodemo di cui uno è piuttosto preoccupante nella zona della sede della protezione civile dell'Arnica e anche a Sellero. A fine marzo la prolungata siccità e il vento sono stati riesca per maggiori danni. Il primo episodio avvilli in campo di Sonico con il fronte delle fiamme giunto fino al rifugio Magastain per poi scollinare verso il territorio di Edolo. Quindi è stata interessata anche la Val Grande di Vezadoglio e i monti di Vione dove per una settimana hanno operato volontari antincendio boschivo, vigili del fuoco, elicotteri antincendio di regione Lombardia, Canadair, quindi finalmente la pioggia e la neve anche a quote relativamente basse hanno rallentato e quindi fermato e propagarsi delle fiamme. In Valle Camonica come si diceva il bilancio è molto severo. Dai 700 agli 800 ettari di bosco per buona parte di conifere è andato distrutto senza calcolare i danni alla fauna selvatica e del rischio per abitazioni rurali e cascinali sparsi e come nel caso di Sonico per il rifugio Magastain.